Ciao a tutti ragazzi sono Ganzo ed oggi siamo in un nuovo gameplay barra video vlog aggiornamenti sul canale se ve lo state chiedendo se siamo nel mondo di Stepney però purtroppo è un salvataggio vecchio quindi tutti i monumenti e le pixel art fighe non ci sono però dettagli comunque allora ragazzi prima di tutto volevo dirvi che ho interrotto le serie temporaneamente infatti è da due settimane che non metto video perché la tastiera non mi funziona più infatti ho ordinato un kit della Cooler Master l'octane della Cooler Master della Samstorm e è una figata pazzesca oddio non è che non mi funziona più la tastiera però è strana tipo si blocca ogni tanto il mouse a volte anche va per cazzi suoi quindi ho deciso di comprare questo kit comunque qui siamo sul mondo di Stefanino vediamo tutto il mondo di Stefanino oddio sono caduto oddio sono ricaduto andiamo un po' a cazzagiare nel mondo di Stepney allora qui c'è la Snowman io voglio vedere Tolly eccola qui ciao da Tolly aspettate in teoria dovrebbe esserci anche Jeb perché non c'è Jeb? che però questa tastiera fa anche un casino assurdo guardate qua cioè una cosa proprio odiosa cosa c'è giù per il tubo? doveva starci una cosa che ho scritto tipo qui e poi fermo cosa del genere vediamo se la trovo eccola qui qui e poi fermo mettiamoci... no! ho fatto una cazzata perché dovevo solo scendere come cazzo ho fatto a non morire? ah ecco perché sono tutto diamantato comunque raga sono io non ho messo un video di Stefanino guardate qui infatti sta scritto Stepney's boot boot ah mi sono un po' stessata del mondo di Stepney no cazzo il fatto che io non sono Stepney io sono John Cena dove cazzo sto andando? oh la scritta Step che figo oh il dojo lassù allora dovevamo andare da Jeb? si guarda qui intanto c'è una piecora random c'è una piecora ti vuoi uscire scusa oddio che l'h oh Jeb eccola che cambio colore simono come cazzo faccio portarti su un casino magari in un altro episodio dato si che io sono un hank ora faccio una cosa no ho fatto una cazzata non è questa ecco è questa mo' vi faccio una bella pixel art tipo monumento come li fa Step tra l'altro guardate che figata mamma il suo mondo cioè una cosa bombinevole ah raga a parte parlando di mondi di minecraft penso che ricomincerò una serie sul canale su pc dato si che mi sto facendo anche la postazione da gaming buona diciamo me la sto diciamo aggiornando penso che lascerò la serie su ps3 e ne farò una su minecraft su pc dato si che ho preso anche la versione premium dato si che sono diventato premium e quindi penso di sì allora mi è venuta un'idea la faccio qui la scritta gianzo anche se non mi verrà mai però tentarlo in noce allora la scritta la voglio fare in lana blu ma dobbiamo fare delle cose non molto significative come questa e questi che non servono niente ok c'è la torcia c'è la torcia no che cazzo ho fatto sono un coglione che cazzo ho combinato che cazzo sto a combinare che cazzo sto a combinare prendiamoci la la spada oh tra l'altro oddio la canna sanpei la canna leggendaria basta se no mi puttano la canna allora qui qui così che cazzo sto a combinare proviamo a fare una g anche se è impossibile però proviamo che diamine sta venendo che è sta cosa che cazzo poi potrebbe venire tipo una cosa del genere ecco così ci sta però no mi sa che l'ho fatta un po' troppo grande ok scialle e mo il 4 come cazzo si fa oddio se mi sta venendo il 4 cioè cosa epica cosa epica epica che cazzo fa ma che cosa sto combinando che diamine sto combinando ok ok ecco la scritta finalmente e poi qui un attimo che raga voglio proprio fare una cosa mi è venuta un'idea proprio now diciamo faccio una specie di ponte con la pietra ci metto tipo la pixel art di un piccone se ci riesco no no è troppo difficile allora questo in teoria quindi dovrebbe essere il manico del piccone che dovremmo in teoria fare così da raga non è che sta venendo tanto male si sta venendo tanto male non commentiamo per piacere meglio allora 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 sta venendo di merda penso però ok la stessa cosa penso dobbiamo fare di qua 1,2,3,4,5 ok raga guardate qui che figata ditemi se non è una cosa fighissima è una cosa fighissima raga non è troppo figo seriamente ok dopo aver fatto sta cazzata nel mondo di stefanino direi che può bastare questo era solo un video diciamo per farvi cercare di capire perché non mettevo video da due settimane non una da due settimane appunto perché con stata sera proprio mi sale proprio l'incazzatura level master poi anche per il fatto che diciamo non sono mai riuscito ad organizzarmi anche con l'orix o con speed di chickpeasers dato che comunque abbiamo scuola quotidianamente quindi non facciamo più video insieme come una volta comunque raga detto ciò spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su commentate e condividete naturalmente iscrivetevi al canale qui da canso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ecco